Il dato finale dell'affluenza è stato quello di 1.644 votanti su 1.833 aventi diritto, pari all'89,7%, nonostante il freddo quindi altissimo all'affluenza a Palazzo Sant'Agostino per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Fa il pienone il Partito Democratico, che elegge con 5.402 voti Cerretani-Luca, il primo di una pattuglia di otto consiglieri, subito dopo con 1.154 voti Vincenzo Napoli, Carmelo Stanziola 3.978 voti, il sindaco di Cava Vincenzo Selvalli 3.676, Antonio Resciglio 3.676, Giuliano Antonio 3.030 voti, Michele Strianese 2.924 e Paolo Imparato 2.594. Da sottolineare le defaianze nel Partito Democratico di Mimmo Volpe, sindaco di Bellizzi e di Gerardo Malpede. Per dar vero al centro tre gli eletti, Massimo Cariello con 3.678 voti, Marcello Ametrano con 3.038 e Pasquale Mauri con 2.506. Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale elegge due consiglieri, Giuseppe Fabbricatore con 3.456 voti e Angelo Cappelli con 2.262. Forza Italia Nuovo Psi un solo eletto, Gregorio Fiscina con 2.152 voti, un eletto anche per il Partito Socialista Pasquale Sorrentino e per cittadini per la provincia di Salerno con Cosimo Ferraioli. Il totale dei voti sono questi per la lista di Forza Italia Nuovo Psi, 9.072 voti, qui da sottolineare che per solo 200 voti non è stato eletto il secondo consigliere che doveva essere Domenico Di Giorgio. Per la lista davvero al centro tutti i voti ponderati chiaramente questi 14.264, per Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale 10.984 voti, per il Partito Socialista 7.286, per il Partito Democratico 40.910 voti, per la provincia di tutti 1.970 voti, qui non è stato eletto nessun consigliere. Infine, settima lista, cittadini per la provincia di Salerno con un solo eletto, 9.004 voti.